Possiamo cominciare, direi. Allora, ben ritrovati. Era un bel po' che non ci vedevamo sui nostri canali, su Facebook. Questa sera ci ritroviamo per parlare di un tema che abbiamo già trattato più volte in diversi modi. Questa volta lo facciamo, siamo sempre ovviamente per la fionda, io e Fabio Nestola. Salutiamo anche se ci hanno già visto. Ciao Fabio. Ah, dentro. Tutti. Parliamo di un tema consueto per noi che è il femminicidio e ne parliamo di nuovo perché è capitata una cosa che secondo noi va chiarita. È una buona occasione per tornare a parlarne e per andare di nuovo ad approfondire questa tematica. Abbiamo intitolato provocatoriamente questa diretta Ma il femminicidio esiste? E questo è collegato con il nostro ospite che è la prima volta che collabora e che, come dire, conversa con noi su questo argomento, che è l'avvocato Costantino Righi Riva. Buonasera avvocato. Buonasera a voi. Grazie per aver accettato l'invito. Ora, prima di iniziare a chiacchierare di questa tematica, faccio una premessa, la premessa solita, la premessa doverosa, che facciamo una volta soltanto all'inizio della diretta e che deve valere per sempre, per tutto il resto della diretta. Ed è la premessa in cui si dice che cosa non siamo qui a fare e che cosa siamo qui a fare. Allora, non siamo qui a giustificare omicidi, crimini, uccisioni. Assolutamente no. Una sola vita persa a causa di un omicidio è qualcosa di inaccettabile, che è giustamente condannato, perseguito ed è giusto che sia così. Quindi non siamo qua per sminuire fenomeni gravi, che sono giustamente puniti dalla legge, e non siamo qui per giustificare reati di nessun tipo. Siamo qui per cercare di capire qualcosa di più di un fenomeno che viene nominato spesso, quasi ossessivamente, ogni volta che un certo fenomeno purtroppo accade. E vorremmo cercare di capire di più, quindi inevitabilmente quando si vuole capire qualcosa di un fenomeno si deve cercare qualche dato, si deve cercare qualche numero, ci si deve ragionare un po' sopra. E noi cercheremo di farlo nel pieno e assoluto rispetto di tutte le vittime, tutte, a prescindere dal sesso, dalla razza, dall'età, da qualunque cosa, quindi col massimo rispetto per le vittime e per le loro famiglie. Però vorremmo capire qualcosa di più di un fenomeno che è tanto, tanto, tanto nominato, tanto utilizzato. Ecco, quindi questa è la premessa che vale adesso e per tutto il resto della trasmissione, non la ripeteremo più. Allora, io vorrei passare la parola a questo punto all'avvocato Riva, che abbiamo invitato perché ultimamente si è visto in televisione. Si è visto in televisione in una, noi l'abbiamo chiamata nei posti di presentazione, un'imboscata delle Iene. Le Iene lo fanno spesso. Sospendo ogni giudizio, aspetto che l'avvocato ci racconti un po' che cosa è successo. Buonasera a tutti. Ma sì, si è trattato di un'imboscata che mi ha portato ad una notorietà di un malgrado nazionale, mi ha portato ad una notorietà nazionale un piccolo episodio capitato un anno fa in Consiglio Comunale a Formigine. In quell'occasione si discuteva del DDL-ZAN, inutilmente perché naturalmente il Consiglio Comunale di un piccolo comune non è in grado di decidere nulla a proposito di tematiche di livello nazionale. E in quell'occasione la discussione si è indirizzata verso un episodio che è capitato in un comune vicino dell'Appennino, che ha visto purtroppo vittima una donna, una donna che è stata trasportata all'ospedale di Baggiovara, all'ospedale qui in Modena, a seguito delle percosse del marito. Il marito è stato naturalmente indagato dalla Procura della Repubblica di Modena per omicidio preterintenzionale ed è stato arrestato. Nel giro di qualche giorno il Tribunale della Libertà gli ha concesso gli arresti domiciliari. È partita nei suoi confronti una campagna d'odio che lo ha spinto a togliersi la vita il 9 dicembre dell'anno scorso. L'ultimo sviluppo di questa tristissima vicenda si è avuto qualche giorno fa quando alcune persone hanno visto le marito e moglie sepolti nella stessa tomba del cimitero di Pauvolo. e si sono indignate, queste amiche della signora si sono indignate di vedere il marito presunto omicida, ma solo presunto perché non c'è mai stata una sentenza di condanna nemmeno di primo grado nei suoi confronti, sepolto accanto alla moglie. L'ultimissimo sviluppo della vicenda, questa triste vicenda, è stata la dichiarazione rilasciata dalle figlie, dalle figlie di questa coppia, che hanno fatto sapere a tutti, attraverso un articolo o un comunicato alla stampa, che era loro intenzione seppellire insieme i loro genitori per ricordare i momenti che avevano passato insieme. E da questa vicenda ha preso spunto l'intervento di un consigliere comunale di Pornigine, che ha preso spunto da questa vicenda per ribadire la sua contrarietà al femminicidio, e in quell'occasione io ho sostenuto pubblicamente, perché ne sono assolutamente convinto, che il femminicidio non esiste. Non esiste come fattispecie giuridica, perché il nostro codice penale prevede soltanto all'articolo 575 l'omicidio. L'omicidio quindi di un uomo, inteso ovviamente come essere umano, come persona, che può essere un uomo, può essere una donna, e senza fare alcuna distinzione di sesso, di genere, se vogliamo intenderla in quel modo. Quindi si trattava di un appunto prettamente terminologico, che è un femminicidio è una parola che suona male anche all'orecchio, una parola che a mio modo di vedere è entrata in uso molto recentemente, perché io non mi ricordo da ragazzo o anche soltanto degli anni 90 di aver mai sentito questo termine, è un termine assolutamente impreciso, che non identifica un fatto giuridicamente preciso. Noi sappiamo benissimo che il codice penale deve identificare le fattispecie di reato in maniera dettagliata, in maniera precisa, per non lasciare spazio all'arbitrio del giudice, per consentire ai cittadini di sapere quali sono le condotte consentite, quelle proibite e quelle consentite. Il codice penale da questo punto di vista è molto chiaro. Invece il femminicidio è un concetto puramente ideologico, nel senso che la definizione che ho trovato di femminicidio è l'uccisione di una donna in quanto donna. La cosa mi ha fatto pensare, perché ho pensato che fosse una sciocchezza l'uccisione di una donna in quanto donna. Purtroppo le donne vengono uccise, capita che vengano uccise anche da uomini, ma certamente non in quanto donne. Io non ho mai letto o sentito di una donna che si è stata uccisa per il suo essere donna. Insomma, non ho mai letto o sentito che un uomo sia sceso in strada, abbia preso un coltello, una pistola, un fucile, abbia sparato da una donna, la prima che incontrava, perché donna. Quindi il femminicidio inteso come omicidio di una donna in quanto donna mi sembrava un'emerita sciocchezza, e quindi mi sono permesso di dire in Consiglio Comunale ad alta voce che il femminicidio non esiste. E sono assolutamente convinto di quello che dico. Nonostante abbia sollevato, naturalmente, questa affermazione abbia sollevato le rimostranze dei consiglieri di maggioranza del Comune di Fornigine, che mi hanno chiesto di ritrattare, di chiedere scusa perché con la mia affermazione avrei offeso l'intero Comune, l'intera popolazione di Fornigine, avrei dato un'immagine di Fornigine deteriore anche a livello, prima a livello locale, perché naturalmente questa mia affermazione è stata ripresa sui giornali locali, e poi adesso, dopo la trasmissione delle Iene, addirittura a livello nazionale. Ecco, giusto per aiutare chi ci sta seguendo, quello che ci sta raccontando è avvenuto un anno fa circa. Quello che ho raccontato fino adesso è avvenuto un anno fa. Ok. Che cosa è successo? Che a febbraio, marzo di quest'anno, io naturalmente la cosa, la vicenda la davo già per conclusa, definitivamente conclusa, quando a febbraio, marzo di quest'anno, ho ricevuto una telefonata da parte della signora Jessica Notaro, che io all'epoca non sapevo nemmeno chi fosse, avevo, sì, mi sembrava di ricordare che forse avesse subito un'aggressione da parte del fidanzato, dell'ex fidanzato, che fosse rimasta appunto sfigurata, ma non sapevo che lavorasse per le Iene, non sapevo nient'altro di lei, sostanzialmente. Ho ricevuto questa telefonata e la signora Jessica Notaro mi ha chiesto ragione di questa mia affermazione in Consiglio Comunale, naturalmente partendo dal presupposto che io fossi un disgraziato, insomma, che si permetteva di dire una corbelleria di questo genere. E le ho spiegato appunto il mio punto di vista, insomma, il fatto che non c'è una fattispecie di reato nel codice penale che unisca il femminicidio, ma l'obiezione che lei mi ha mosso è stata questa. Ma lei non pensa, avvocato, che questa sua affermazione possa indurre delle donne che sono vittime di violenza domestica a non denunciare i loro aguzzini, i loro oppressori? Francamente, devo dire che le sedute del Consiglio Comunale di Fondo e Vigile vanno in streaming e vengono viste da dieci persone, le registrazioni su YouTube da altre dieci e se non ci fosse stato, diciamo così, l'intervento del Partito Democratico di Sassuolo a sottolineare la questione, a scatenare la polemica sui giornali, nessuno ne avrebbe saputo niente. Quindi sostanzialmente la mia affermazione non avrebbe proprio potuto arrivare a nessuna donna in queste condizioni. Ma in ogni caso, io non penso che un'affermazione di questo genere possa indurre una donna che subisce violenza a desistere da fare denuncia. Mi sembrava una cosa talmente ridicola da affermare. Insomma, la Notaro ha voluto affermare questo, insomma, darmi la colpa, ecco, farmi sentire in colpa perché magari qualche donna vittima di violenza a seguito della mia affermazione in Consiglio Comunale non troverà il coraggio di andare a fare denuncia dell'inforzamento. Questa intervista si è poi conclusa con la Notaro che in tutti i modi voleva che io leggessi, condividessi una petizione di Amnesty International contro la violenza nei riguardi delle donne. e quindi anche questo modo di fare delle iene l'ho trovato veramente disdicevole perché alla fine della fiera se si presentano come giornalisti il giornalista deve cercare di capire come stanno veramente le cose e deve riferire, cioè, no? Deve avere come obiettivo quello di far conoscere ai propri spettatori la verità, non quello di pretendere di imporre a chi viene intervistato la lettura di una dichiarazione di un impegno e quindi di instillare convinzioni e quindi anche questo modo di fare giornalismo se vogliamo chiamarlo giornalismo è veramente indegno secondo me, a mio modo di vedere non si fa così giornalismo tutto questo è poi servito per l'imboscata che è andata in onda qualche giorno fa nella trasmissione delle iene in cui la mia fotografia è stata mandata in onda e tra quelle dei presunti violenti misogini che si permettono di dire fare alto e basso quello che vogliono strumentalizzando ovviamente la mia posizione che loro conoscevano benissimo perché mi avevano fatto quell'intervista telefonica in cui io avevo spiegato per fine per segno come stavano le cose quindi si è trattato di una vera e propria imboscata però io ribadisco e l'ho ribadito anche di recente perché sono stato intervistato da un giornale locale dal resto di Carlino di Modena a proposito di quella trasmissione ho comunque rimadito il mio punto di vista perché sono assolutamente convinto di quello che ho detto non sono convinto di aver detto una stupidaggine e quindi siamo arrivati a questo punto per cui insomma adesso io valuterò se intraprendere azioni legali nei confronti della trasmissione delle Iene per questo uso strumentale che hanno fatto la mia dichiarazione questa è un po' la vicenda bene, bene, cioè male anzi perché questa modalità di azione di confrontarsi con chi esprime un'idea diversa da quella monolitica che viene imposta un po' a tutti sta diventando veramente eccessiva esagerata perché qui abbiamo una persona che oltre ad essere un professionista un giurisperito quindi un esperto di legge è anche impegnato in politica oltre ad essere un libero cittadino che esprime un'opinione quindi su vari livelli un'azione del genere in televisione che è ancora il mezzo più utilizzato purtroppo dagli italiani e quindi c'è proprio uno vi permetto questa parola uno sputtanamento globale nazionale e non è una cosa da poco per cosa poi? per una posizione che l'abbiamo sentita l'avvocato l'ha accennata non è poi così irragionevole l'avvocato registra che il femminicidio non c'è nel codice penale lui ricorda anzi non ricorda di averne sentito parlare in epoche passate posso dirglielo io il termine circola più o meno dal 2009 e quindi è qualcosa in cui non riconosce una fondatezza è un argomento su cui noi abbiamo già detto molto noi della fionda rinvio chiunque non l'abbia ancora visto a vedere il video che poi metterò nella descrizione o nei commenti a questa diretta è un video abbastanza conclusivo lì abbiamo raccolto un po' di dati abbiamo dimostrato che tutti i vari slogan una donna uccisa ogni tre giorni la mattanza la strage non ha alcun fondamento statistico questo non significa che quelle 30-40 donne uccise da uomini non siano gravi sono gravi sono fatti orrendi ma non hanno le dimensioni di un'emergenza come la si vuole la si vuole trasmettere nel video poi diciamo anche qualcosa sulla definizione giustamente l'avvocato non avendo precisamente idea di che cosa fosse questo femminicidio non trovandolo nel codice penale si è un po' informato e ha trovato la definizione che ci ha appena detto che è una delle tante voi lo sapete noi della Fionda ne abbiamo contate all'incirca 13 abbiamo creato anche un generatore automatico di definizione di femminicidio che ne genera un qualche centinaio associando diverse cose associando che cosa? l'autore del reato e il movente del reato sono su questi due questi due elementi assolutamente ambigui usati in modo ambiguo che si gioca per dare diverse definizioni di femminicidio quello che ha trovato l'avvocato è forse il più comune la definizione più comune una donna uccisa in quanto donna bene a parte che è difficilissimo come dice giustamente l'avvocato dimostrare che uno ha ucciso una donna in quanto donna se così fosse ucciderebbe come ha detto giustamente l'avvocato qualunque donna per strada non proprio quella ma al di là di quello e se è una donna a uccidere una donna in quanto donna è femminicidio o no? se lo chiedete a chi sostiene questo tipo di terminologia cioè sostanzialmente le femministe ti dicono di no perché ovviamente manca l'aspetto della mano maschile che è fondamentale dal punto di vista ideologico eppure se andiamo a vedere è capitato qui forse mi può aiutare di più Fabio qualche anno fa di una donna che aveva era amante di un uomo sposato e ha ucciso la moglie di lui e lì l'ha uccisa in quanto donna in quanto donna dell'uomo di cui era innamorata eppure quello non è teoricamente non è femminicidio perché la mano è femminile e quindi non se ne esce se si prende l'autore se si prende il movente comunque le cose non tornano mai se si prova a mettere insieme entrambe le cose in modo più o meno logico e lo si applica ai fatti di cronaca che realmente avvengono e quindi possiamo dire che il femminicidio è l'omicidio di una donna per mano maschile per motivi di gelosia possesso frustrato quello che una volta viene chiamato il delitto passionale ok chiamiamolo femminicidio oggi d'accordo bene andiamo a vedere quanti quanti casi nella realtà e ci ci scontriamo contro la realtà dei fatti che in Italia sono tra i 30 e 40 all'anno quindi tutt'altro tutt'altro che un'emergenza sebbene appunto venga assolutamente rappresentato come forse la più grande emergenza qualcuno è arrivato a dire che fa più vittima il femminicidio delle malattie o qualcosa del genere si sentono le cose più assurde tra cui appunto una donna uccisa ogni tre giorni che è assolutamente destituito di ogni fondamento le donne uccise secondo la logica del femminicidio si aggirano da molti anni ormai tra le 30 e le 40 all'anno però se andate a vedere i vari conteggi che tengono i vari giornali il Corriere della Sera ne ha uno la Repubblica ne ha un altro ci sono siti di centri antiviolenza che tengono loro a parte che non collimano mai però trovate centinaia di nomi centinaia e lo sapete noi come Fionda periodicamente facciamo delle analisi su questi elenchi per capire come un fenomeno che accettando la definizione che ho detto prima quindi un uomo che uccide una donna per l'ex motivo passionale siamo sulle 30 40 come fanno arrivare a 120 150 e quindi a poter sostenere che una donna è uccisa ogni tre giorni qui non posso che chiedere l'intervento del nostro Fabio Nessola che è quello che fa il debunking di questi elenchi farlocchi perché questo sono così dobbiamo chiamarli certo hai introdotto diverse cose da approfondire uno è quello di questa necessità febbrile di gonfiare artificialmente i numeri per costruire un allarme sicuramente sovradimensionato rispetto ai reali contorni del problema che torno al tuo appello iniziale è un problema anche fossero solo 20 solo 10 solo 5 anche fosse solo una vita persa a causa della gilosia morbosa di qualcuno comunque sarebbe un problema del quale occuparsi voler esagerare voler gonfiare voler inserire di tutto e veramente di tutto nel grande calderone del femminicidio è qualche cosa che toglie serietà all'analisi semmai un'analisi del femminicidio è possibile perché poi tanti argomenti ripeto sono stati introdotti uno è quello sul quale ci spendiamo da tempo fiumi l'inchiostro abbiamo scritto sul fatto che il femminicidio non esiste nei nostri codici nel nostro ordinamento come fattispecie autonoma di reato ma non esiste nemmeno come aggravante perché le aggravanti dell'omicidio sono già previste in altri articoli quindi nasce come una un termine che deve agire esclusivamente sulla pancia esclusivamente sull'emotività ma non ha assolutamente nulla di giuridico e in questo c'è da sposare totalmente la tesi dell'avvocato questo ha detto da tecnico da giusperito questo ha detto che non esiste l'altro elemento grave che ci deve portare a riflettere ha introdotto Davide il fatto della molteplicità di dati e perché questa molteplicità di dati che non sono neanche sovrapponibili fra di loro perché le cifre vengono sparate veramente a caso perché non esiste a tutt'oggi una fonte ufficiale ma è ancora più grave che non esista una fonte ufficiale nonostante in Italia non so altrove ma in Italia esista una commissione specifica una commissione di inchiesta sul femminicidio ed altre evidenze sulle donne quindi che la commissione femminicidio non sia stata in grado di comunicare di rendere pubblici quelli che sono i criteri che devono ai quali deve rispondere un episodio per essere connotato come femminicidio e che soprattutto non sia stata mai in grado di pubblicare un elenco degli episodi che a tali criteri corrispondono e beh questo non è in grado di dirlo questo ci sono state sollecitazioni ripetute formali e informali anche da parte nostra ma non solo ma su quel fronte è tutto a pace ad oggi una definizione ufficiale da parte dell'ente più autodevole in materia chi meglio della commissione femminicidio dovrebbe chiarire alle italiane e agli italiani che cosa sia questo femminicidio e il femminicidio non esiste non lo può ammettere la commissione femminicidio perché vive di quello quindi il concetto deve rimanere fumoso deve rimanere nebbioso deve rimanere indefinito perché si può inserire lo ripeto di tutto e veramente di tutto e come moventi utilizziamo il plurale e come casistica per i moventi sì in effetti il più gettonato è assolutamente uno slogan niente di più e niente di meno l'uccisione di una donna in quanto donna quando poi nell'analisi dei singoli casi vediamo che dopo un fidanzamento un matrimonio di 12 anni un fidanziamento di 3 poi si arriva a togliere la vita all'altra persona gesto sempre condannabile sempre gravissimo sempre da sanzionare con la 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 massima gravità però l'elemento scatenante non è essersi reso improvvisamente conto di avere a proprio franco una donna dopo 12 anni di matrimonio dopo due anni di finanziamento altro è intervenuto ma è giustificato non è una giustificazione questa l'ha detto Davide io sento di doverlo ripetere più volte ma è una necessità di capire di comprendere quali possano essere i motivi uno è la gelosia morbosa un altro è il femminicidio viene addossato alla sensazione di possesso che è strettamente legato alla gelosia morbosa alla mancata accettazione della fine di un rapporto poi andiamo a quelli più generici all'oppressione patriarcale all'oppressione maschilista alle sovrastrutture culturali misogene alla mascolinità tossica sono concetti che vogliono dire tutto il contrario di tutto ma non esiste neanche un insieme di queste caratteristiche che sia stato codificato dalla commissione femminicidio passiamo all'altro aspetto ho parlato di un grande calderone nel quale viene inserito veramente di tutto il fattore di rimente non è né il movente e neanche l'autore perché ci sono alcuni casi con autrice che vengono anche quelli classificati come un femminicidio pur di gonfiare è veramente febbrile è un'ossessione questa necessità assolutamente scollata dalla realtà dei fatti la necessità di gonfiare i numeri di poter dire che ecco una donna uccisa ogni tre giorni ogni due giorni ogni 72 ore questa mattina gli omicidi quotidiani qualcuno si spinge anche a dire dei femminicidi quotidiani per cui staremmo parlando in via teorica di una cifra che può oscillare tra i 300 e i 365 decessi l'anno perché con questa analisi che diceva Davide per il 2021 ancora non l'abbiamo fatto aspettiamo che termini l'anno i più recenti i dati sono del 2020 andiamo ad analizzare caso per caso ed è un lavoro enorme perché andiamo a verificare più fonti giornalistiche per lo stesso caso per alcuni episodi le fonti giornalistiche che portano dieci righe senza nessun approfondimento altre motivazioni dobbiamo andare a trovare appunto da più fonti giornalistiche si tratta quasi sempre di piccoli media locali quindi ricostruendo un po' quelle che sono le dinamiche quelle che sono le motivazioni noi vediamo che all'interno della voce femminicidi vengono inseriti momenti economici rapine finite male discussioni fra parenti per divisione di eredità quindi anche questo è un sottogruppo delle motivazioni economiche un grande filone che troviamo immancabilmente tutti gli anni è quello noi abbiamo coniato il neologismo per capirci del delitto eutanasico cioè delle persone abbastanza avanti con gli anni ottantenni ultraottantenni che tolgono la vita alla compagna della propria vita per non vederla soffrire più entra la pietas in gioco non l'odio di genere non la prevaricazione maschilista il patriarcato le sovrastrutture culturali misogine e tutto quello che abbiamo citato prima anche nei casi in cui l'anziano l'ottantenne uccide la propria compagna per non farla più soffrire e poi a sua volta si toglie la vita anche nei casi in cui sono stati trovati dei biglietti nei quali entrambi manifestavano la volontà di farla finita la volontà di non soffrire più anche quando chiedevano scusa ai figli anche quando lasciavano scritto che non volevano quel gesto chiedevano scusa ma quel gesto era stato compiuto per non essere più di peso ai figli perché non solo lei ma anche lui avevano patologie invalidanti malattie degenerative dalle quali sapevano ahimè che non sarebbero mai potuti guarire anche in quei casi li abbiamo trovati inseriti nei femminicidi ma l'apoteosi il caso più più vergognoso lo devo usare questo termine più vergognoso della strumentalizzazione di un episodio pur di inserirlo nel femminicidio sono i casi in cui un padre uccide i propri figli sono casi terribili casi di una gravità estrema ne abbiamo ben quattro non uno solo relativi al 2020 in un caso un'intera famiglia sterminata in altri casi l'uccisione dei figli e poi l'uccisione il suicidio l'evento di violenza autodiretta della persona che uccide i figli con le motivazioni di se è stato discommesso con la con le motivazioni di non volersi staccare dai figli così saremo insieme per l'eternità anche qui messaggi lasciati a volte poco spesso per iscritto molto più spesso sui social con questa questa volontà di rimanere legato per sempre ai figli l'ho detto e lo ripeto un gesto gravissimo un gesto inimmaginabile nella sua crudezza però la lettura che viene data è quando un padre uccide i suoi figli un maschietto e una femminuccia il maschietto lo uccide per il troppo amore per questo desiderio malato di portarlo con sé anche nell'eternità di non staccarsi mai per l'eternità la femminuccia la uccide perché odia le donne quindi c'è questo sdoppiamento di un evento accaduto all'interno dello stesso contesto familiare compiuto con la stessa arma nello stesso giorno dalla stessa persona gravemente disturbata ma non un pazzo sicuramente un pazzo ma l'autore è lo stesso per entrambi il percorso si sdoppia solo al momento di dover classificare la vittima perché pure se tutti gli elementi portano al riconoscimento di una follia dettata da troppo amore diciamola così dalla volontà di non separarsi mai dai figli cambia cambia per la bambina perché la bambina è stata uccisa perché odia le donne perché il patriarcato l'oppressione maschilista è tutto quello che abbiamo detto prima quindi c'è c'è malafede questo dobbiamo dire non possiamo parlare di distrazione perché certe distrazioni tra molte virgolette si ripetono ogni anno anche avendole segnalate avendole dimostrate con l'analisi caso per caso un'altra cosa aggiungo e poi ascoltiamo altri pareri sempre dall'avvocato perché vorrei che fosse lui chiudi questa serata per la sua esperienza però un altro elemento volevo aggiungere è quello della dell'egittimazione chi si occupa di questi argomenti subisce un attacco strumentale che è un po' il cugino dell'attacco strumentale che ci ha appena raccontato l'avvocato le sue frasi sono state decontestualizzate e è stato addirittura accusato per aver detto che come termine giuridico il femminicidio non esiste quindi qualche donna vittima di violenza potrebbe sentirsi meno legittimata ad entrare in un commissariato per denunciare le proprie violenze mi sfugge il nesso ma questo a lui è stato detto per noi che facciamo questo lavoro di demistificazione arrivano a pioggia ma veramente a pioggia attacchi insulti ed offese ed accuse di negare il femminicidio neghiamo che esista il fenomeno no la posizione nostra mia personale ma anche di Davide è persino più dura persino più oltransista di telefono rosa o differenza donna o qualsiasi centro antiviolenza femminista noi lo diciamo che anche solo cinque donne anche solo una donna sarebbe uccisa per i motivi passionali per i motivi di possesso di poter di non accettare la separazione il classico o mia o di nessuno ecco una persona che perda la vita per questi motivi deve essere un problema gravissimo del quale si deve occupare la politica i media cittadine e cittadini responsabili con una presa di coscienza collettiva ma mi chiedo e chiedo a chi ci ascolta da che cosa nasce l'esigenza di sparare bufale da che cosa nasce l'esigenza di gonfiare i numeri far ripassare da 30 a 40 a 50 a 100 a 150 a 365 c'è chi si spinge fino a questo da che cosa nasce l'esigenza di inserire di tutto di inserire gente che muore per altri motivi dimenticavo nel grande calderone ci sono donne uccise da altre donne c'è la madre uccisa dalla figlia c'è la figlia uccisa dalla madre c'è la nipote uccisa la zia uccisa dalla nipote quindi è veramente una c'è dolo c'è dolo lo ripeto non si può parlare di superficialità di inserimenti fatti per errore la cosa ci sono omicidi compiuti tra donne per ex compagne di orientamento lesbo quindi la gelosia morbosa omia di nessuno non è che abbia una caratteristica non è che sia un'esclusiva maschile sconfina anche in altri orientamenti sessuali ma tutte immancabilmente inserite all'interno del femminicidio ritorniamo al perché questo questo che abbiamo detto adesso ci vorrebbero intere puntate per dimostrare la demistificazione con i nomi i cognomi delle persone classificate come vittima di femminicidio invece la storia racconta altre addirittura deliri religiosi che ha ucciso in strada manifestandosi come Allah dicendo di sentire le voci dicendo di sentire di essere comandato dal diavolo evidenti gente in cura al centro di igiene mentale da anni tutto viene passa tutto in secondo ordine bisogna solo parlare di odio contro le donne ucciso perché odiava le donne in generale e quella donna in particolare quel giorno ma torniamo è un mio pallino torniamo alla commissione femminicidio perché questa fumosità perché non si definisce un criterio scientifico in maniera precisa in maniera scientifica che poi lo step successivo sarebbe la classificazione giuridica cioè l'inserire all'interno nel nostro codice penale codice di procedura penale anche una fattispecie di reato autonoma che non esiste ma non deve esistere perché fa gioco alla costruzione di questo allarme fittizio gonfiato ad arte e montato con numeri inesistenti fa gioco la confusione fa gioco poter sparare numeri a caso fa gioco la possibilità che chiunque gestisca un proprio sito un proprio un proprio database spari dei dati che non sono non trovano rispondo neanche nei dati di altri non c'è univocità neanche in questo perché quello che deve passare come linguaggio mediatico è il grande allarme del femminicidio la maggiore esigenza italiana dalla quale devono poi nascere anche misure liberticide devono nascere anche normative ad hoc qui il discorso sarebbe anche limitativo pensare solo all'erogazione di fondi perché poi è molto stretto anche se non c'entra assolutamente nulla ma è molto stretto il legame con i centri antiviolenza e questo legame è stato fatto anche all'avvocato può non denunciare una donna può avere sulla coscienza l'avvocato per aver detto quelle frasi in consiglio comunale la coscienza del fatto di una donna che abbia delle ricrosie abbia dei dei blocchi delle difficoltà a denunciare le violenze subite e quindi sono molto legati questi temi perché parlando di violenza sulle donne dei dati sulla violenza sulle donne della differenza enorme che esiste fra le denunce presentate e quelle che poi si concretizzano in una reale colpevolezza del reo perché c'è una mole sconfinata di procedimenti che finiscono per archiviazione o per procedimento di un istruttore o per assoluzione del presunto reo quindi bisogna parlare di presunta vittime all'inizio vittime lo saranno quando sarà riconosciuto in tribunale la fondatezza delle accuse che vengono mosse però quando si mettono in discussione questi quando si comincia a ragionare su questi dati la risposta pronta è sì ma c'è il femminicidio vengono uccise le donne quando invece si mettono in discussione si mette si intavola un dibattito sul femminicidio poi si deborda sulle violenze subite dalle donne sullo stalking sulla violenza domestica quindi sono due modi due campi che dovrebbero essere autonomi però sono due modi per gettare fumo negli occhi per non dare mai risposte concrete per non dare mai una definizione concreta per non fare mai un'analisi completa né di completa approfondita dettagliata e documentata né di un fenomeno né dell'altro grazie Fabio volevo aggiungere brevemente due cose prima di sentire l'opinione dell'avvocato rispetto a questa nostra impostazione che va oltre il giuridico evidentemente appunto sfiora lo statistico il sociologico il politologico eccetera mi piacerebbe capire il suo punto di vista rispetto al lavoro che stiamo facendo ormai da anni e le due cose anzi le tre cose che volevo aggiungere la prima è che visto che l'avete sentito Fabio c'ha la fissa della commissione femminicidio io ho invitato la senatrice Valente ma mi ha detto che a Pilates l'aveva a Pilates stasera quindi non è potuta intervenire ci saluta tutti sulla definizione di femminicidio si vedrà ci stanno lavorando alla cremente a parte questa a parte questo la grande domanda a cui in parte ha già risposto Fabio è perché si fa tutto questo perché c'è questa enfasi sul femminicidio perché si falsificano i dati perché questo è nel video che abbiamo fatto l'abbiamo ipotizzato in modo molto chiaro l'obiettivo è far passare l'intero genere femminile come vittima di una persecuzione storica che è la teoria del patriarcato cioè le donne da sempre sono state oppresse eccetera eccetera cosa assolutamente priva di ogni fondamento se leggete gli articoli di Santiago Gasco Altava ogni domenica ne avete la prova provata con documenti alla mano e ancora nel presente questa è l'idea definire le donne e descriverle come una minoranza perseguitata oppressa e quindi bisognosa di più tutele rispetto agli oppressori che sono l'altra parte che sono appunto gli uomini i maschi ok ed è da questo tipo di impostazione ideologica come la giustamente chiamata all'inizio l'avvocato che derivano tutta una serie di misure che vanno dall'economico come ha detto Fabio solo in questi giorni abbiamo postato due notizie per esempio come si chiama il fondo di libertà il reddito di libertà quindi le donne che denunciano di essere state vittime di violenza e sono certificate come vittime di violenza non da una sentenza di un giudice ma da un centro antiviolenza ricevono il reddito di libertà quindi ricevono dei soldi pubblici l'altro adesso la regione Lazio fondi per le madri per le donne sole con un figlio quindi fondi riservati soltanto al genere femminile e i padri eventualmente soli con figli niente quindi c'è questo aspetto economico e poi c'è l'aspetto molto più pesante che quello dell'oppressione i vari codici rossi le varie leggi che ovviamente vengono scritte senza specificare il genere altrimenti sarebbero incostituzionali ma vengono presentate e applicate perché poi la formazione che viene fatta alla polizia giudiziaria e ai giudici è unilaterale vengono applicate solo avendo in mente che il colpevole l'oppressore l'autore del reato è sempre l'uomo se ne può avere una prova dialettica molto semplice quando parlando con una sostenitrice dell'esistenza del femminicidio la metti con le spalle al muro al muro con gli argomenti che abbiamo appena citato lei tende sempre a scivolare via con questo concetto sì d'accordo però in generale sono più le donne uccise dagli uomini che gli uomini uccisi dalle donne che è una grande furbata dialettica ma non ha alcun senso perché comunque se andiamo su questo piano sono più gli uomini uccisi da chiunque che non le donne uccise da uomini statisticamente e poi gli uomini i maschi hanno sempre purtroppo ucciso si sono sempre caratterizzati per essere gli autori di reati violenti è la natura maschile questo dall'età della pietra fino a oggi abbiamo trovato di recente un modo che un modo di rivolgerci a chi dice queste cose che le che le zittisce terribilmente ed è fantastico perché ogni volta che dicono così noi rispondiamo d'accordo ma sappiamo il numero di uomini che hanno salvato la vita a una donna perché se sono 30 40 50 gli uomini che hanno ucciso una donna di certo tra vigili del fuoco carabinieri semplici cittadini che aiutano le donne e che le salvano sicuramente se dovessimo fare un orribile conguaglio andremmo in vantaggio il genere maschile avrebbe un grande vantaggio però di quello non si tiene mai conto del fatto che ci sono uomini che istintivamente salvano le vite a tutti in particolare alle donne quando è quando è il caso quindi appunto una grande impostazione ideologica una grande montatura ideologica sulla base di questo principio le donne sono sempre vittime di carnefici che sono sempre uomini e sulla base di questo si sta muovendo l'economia la politica il dibattito pubblico laddove c'è qualcuno che va in controcanto come noi della fionda vai da anni e come nel frangente che ci ha raccontato l'avvocato parte la shitstorm che può essere nazionale e gravissima come quella che ha subito l'avvocato oppure la non shitstorm cioè l'essere ignorati noi veniamo tenuti fuori sebbene la fionda sia seguitissima sebbene le sue argomentazioni vengano riprese spesso anche da diversi quotidiani anche se ovviamente non ci citano però notiamo che lo fanno anche se una diversa coscienza si sta evolvendo forse anche in parte grazie a noi però noi veniamo tenuti all'oscuro nel buio proprio perché è pesante il modo con cui argomentiamo contro il dettato il dettato unico che ci governa e che fa vittime tra cui appunto l'avvocato nostro ospite a cui vorrei chiedere a questo punto cosa ne pensa della nostra del nostro impegno della nostra analisi che è anche giuridico ovviamente anche noi sosteniamo quello che sostiene lei quindi il femminicidio non è menzionato nei codici ed è una una questione accuramente ideologica però attorno facciamo tutto questo tipo di ricerca lei come come la vede questa io naturalmente condivido quella che è la vostra impostazione condivido il fatto che ci sia un'impostazione ideologica che viene calata sulla cronaca e ha dei riflessi sui codici e sulle leggi il riflesso più evidente è la frammentazione del diritto cioè il diritto non è più pensato per con riguardo all'intera collettività ma alle varie minoranze che la compongono il fatto ad esempio di commettere un reato nei confronti di una donna viene inteso come un reato perpetrato nei confronti di tutte le donne è un pensiero che è anche la base del DDL Zanni perché quando naturalmente la società si divide in minoranze queste minoranze rivendicative naturalmente che cosa fanno? si vittimizzano vogliono passare per vittime e naturalmente fanno a gara per chi ha è più vittima del ovviamente sono tutte vittime del maschio bianco della società patriarcale eccetera eccetera ma fanno a gara per avere più riconoscimenti anche dal punto di vista del diritto e questo ha conseguenze secondo me devastanti perché fa venire meno quello che è il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione e porterà inevitabilmente ad aumentare le vendicazioni per cui ad esempio anche gli omosessuali naturalmente quando c'è un episodio a livello quando c'è qualche d'uno che subito viene data notizia dai media nazionali quando invece ad esempio lo stesso episodio riguarda un uomo la cosa non viene nemmeno trattata e così questo modo di pensare che un reato commesso nei confronti di una donna di un omosessuale o comunque di qualche d'uno appartenente ad una minoranza coinvolga tutta intera la minoranza è una cosa che non ha nessun fondamento logico è come se si volesse pensare che chi rifila un pugno ad un avvocato offende tutti gli avvocati no l'unica persona offesa è chi effettivamente si è preso quel pugno è quella la persona offesa gli altri gli altri no non lo sono non si può pensare di estendere la copertura quindi o di arrivare a aggravare le pene in conseguenza di 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 quest'idea cioè per cui quindi se il reato viene commesso nei confronti di una minoranza le donne non lo sono perché sono un po' in maggioranza ma se viene commesso nei confronti di una minoranza allora ci vuole un surplus di pena in questo modo quindi le minoranze vengono tutelate più di più di quello che è un cittadino normale perché si parla da un presupposto sbagliato che quello che la minoranza sia debba ricevere una qualche forma di indennizzo per 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 il passato quindi insomma le donne debbano quindi essere più tutelate degli uomini gli omosessuali debbano essere più tutelati degli eterosessuali che è una cosa che non ha un riscontro effettivo non ha un riscontro effettivo perché ad esempio gli omosessuali normalmente non sono vittime di reati più degli eterosessuali così come le donne non sono vittime di reati più degli uomini per la loro condizione per il loro orientamento sessuale e questo è il punto e tutto questo ha delle conseguenze sulla libertà e sui diritti degli uomini io ad esempio vedo in molte separazioni adesso in Balsa è in Balsa l'abitudine di andare a pronto soccorso di farsi fare un certificato medico magari anche per un semplice livido che uno si può essere procurato in mille modi e basta questo certificato per ovviamente accompagnato da una denuncia per ottenere ad esempio l'allontanamento da casa del marito violento l'allontanamento da casa ovviamente si vuole è mai possibile che i figli possano continuare ad avere rapporti con il padre violento assolutamente no e quindi tutto questo naturalmente genera una situazione conflittuale esaspera la conflittualità e soprattutto viene fatto in previsione di quelle che possono essere le conseguenze cioè se l'ha fatto una volta se è stato violento una volta lo potrà essere ancora in futuro e conseguentemente si devono prendere delle misure senza neanche aver accertato effettivamente come sono andate le cose sulla semplice base che la donna perché più delle volte si tratta di donne che fanno questo tipo di denunce abbiano dichiarato questo per cui l'uomo viene stromesso da casa viene allontanato dai figli e si trova quindi in una situazione dalla sera alla mattina di completo stravolgimento della sua vita sulla base di una semplice dichiarazione accompagnata da un certificato medico che viene invariabilmente rilasciato e di una denuncia senza nessun accertamento in questo senso quindi i diritti di difesa in questo modo vengono bypassati e diventa sempre tutto molto più difficile perché poi naturalmente in un'ottica in un'ottica di trovare una composizione visto che si parte con questo svantaggio naturalmente l'uomo dovrà più delle volte mettere mano ai portafogli cioè affrontare delle situazioni in una posizione di minorata difesa sostanzialmente questo quindi questa narrazione esagerata di cui abbiamo parlato va a incidere va a incidere direttamente su noi per esempio registriamo spesso un doppio standard a parità di reato l'uomo ottiene sempre pene più alte e la donna spesso no non so se a lei risulta la stessa cosa ma sì basta guardare purtroppo ci sono anche tanti omicidi perpetrati da donne basta guardare la cronaca degli ultimi anni dal delitto di conie la madre che uccide il bambino il diritto di novi rigure in cui la figlia uccide la madre e il fratellino al delitto di Avetrana in cui la zia e la cugina uccidono la cuginetta per non parlare casi di cronaca recenti le due figlie di Brescia che pare abbiano ucciso la madre per motivi ereditari non so la moglie di Gucci ecco che è stata condannata ripetutamente ecco in tutti questi casi la pena è sempre è sempre inferiore perché perché si parte dal presupposto naturalmente che la donna abbia subito la prepotenza del marito del padre padrone e quindi inevitabilmente c'è già una giustificazione prima ancora di cominciare nei confronti c'è il doppio standard il doppio standard è evidentissimo perché c'è una una presunzione di colpevolezza nei confronti dell'uomo no? e c'è invece una diciamo così un fare giustificativo nei confronti delle donne questo è evidentissimo proprio in tutti i casi questo è uno degli argomenti che abbiamo trattato in uno degli ultimi articoli sulla fionda con due casi specifici molto molto simili due parricidi un ragazzo ha tolto la vita al padre per difenderlo dalle aggressioni che stava subendo la madre per difendere la madre dalle aggressioni che stava subendo e con molto rammarico il giudice ha dovuto ma ha espresso chiaramente il proprio rammarico ha dovuto regolare una pena a 14 anni di detenzione perché le aggravanti erano superiori alle attenuanti generiche gli aggravanti della parentela erano superiori rispetto alle attenuanti per per la provocazione per tutto il progresso perché infatti si inseriva in un in un contesto di asserite plurime violenze in famiglia e abbiamo fatto il parallelismo con un caso analogo anche qui un padre violento anche qui plurime violenze in famiglia anche qui il padre perde la vita per opera dei figli in questo caso è una figlia quello che è lo sdoppiamento enorme è la soluzione della figlia non i 14 anni la soluzione ma la soluzione mediatica prima ancora che giuridica perché a 12 ore dall'evento si sono espressi tutti a partire dal Parlamento europeo facciamo i nomi l'onorevole Davide Sassoli fino a lo stesso procuratore di Tivoli che era il tribunale competente per territorio fino a non parliamo delle varie associazioni in uno di meno se non ora quando questo è fisiologico che spalleggino un'assassina brava ha fatto bene sei tutte noi con grida di giubilo combatti il 5 con manifestazioni di affetto di solidarietà e di empatia nei confronti dell'assassina ma c'è questa asimmetria valutativa enorme e ripeto mediatica ancora prima che valutativa perché poi quando è arrivata come in effetti è arrivato il procedimento non era persona imputabile ha fatto bene questo era una sentenza annunciata nell'arco dalle 12 alle 24 ore dall'evento molto prima che si incardinasse il procedimento già la sentenza era popolare era mediatica io un'altra cosa volevo dire su abbiamo ancora due minuti Davide sul sul fatto della delle minoranze allora il non parlare della violenza subita dagli uomini e empatizzare e gonfiare le violenze subite dalle donne vale per tutte le violenze a maggior ragione vale per una donna che perde la vita che doverosamente se ne parla a reti unificate mentre noi invece dobbiamo andare a trovare nei piccoli media locali a dragare il sottobosco del web per andare a cercare le notizie di violenze a ruoli invertiti la motivazione si deve puntare per forza il riflettore solo su questo aspetto solo sulla violenza su lui carnefice e lei vittima solo la violenza subita da da lei non a caso non accade nulla per caso bisogna mettere a posto le tante tessere del mosaico e non a caso tutte le fonti istituzionali indagano la violenza subita dalla donna agita dall'uomo e c'è un velo nero che copre il fenomeno inverso l'istat pubblica esclusivamente indagini conoscitive sulla violenza subita dalle donne non ha mai fatto un'indagine speculare ha fatto la prima volta nel 2006 nel 2014 periodicamente ma non solo l'istat anche abbiamo il misero pari opportunità che non dedica pari opportunità è un è uno simoro il primo ente italiano che nega le pari opportunità perché è esclusivamente un grosso scivolo per il femminile una osservazione del mondo attraverso occhiali rosa va anche bene ma chiamiamolo così come tutti gli organismi senza nascondere il paramento delle pari opportunità perché nulla c'è di pari e se gli organismi internazionali abbiamo un SEDAB all'ONU e abbiamo un grevio nella comunità europea che analizzano le criticità del mondo e della comunità europea anche qui solo in un'ottica femminile cioè il disagio maschile non esiste e anche volendo volendo sottolineare ci siamo trovati più occasioni a sottolineare questa disparità questa simmetria di trattamento fra i crimini subiti da un uomo i crimini subiti da una donna perché se ne parli doverosamente quando la la vittima di omicidio non ce la faccio a dire femminicidio è una donna e invece la cosa accada sotto silenzio quando è un uomo la scusa che viene detta molto si sente proprio il rumore delle unghie sugli specchi è perché gli uomini uccisi sono di meno e allora non bisogna studiare il fenomeno non deve farlo l'ISTAT non devono farlo le fonti istituzionali non deve farlo il dipartimento pari opportunità non deve farlo la commissione femminicidio perché gli uomini sono di meno è un principio che vale solo esclusivamente per questo settore di analisi di indagini di conoscenza perché sarebbe folle sostenere non bisogna occuparsi delle violenze subite dai disabili perché i normodotati sono di più sarebbe folle dirlo il fattore numerico sarebbe irrilevante in quel caso diventa lecito occuparsi un argomento introdotto prima non bisogna occuparsi delle violenze subite dagli omosessuali perché gli eterosessuali sono di più e caspita si è arrivato a legiferare in merito è un problema caspita se non lo è stato caspita se non è entrato di prepotenza nell'agenda politica caspita se non ha convolto l'informazione a 360 gradi quindi che dire si snobbano i problemi di una minoranza perché non vale la pena di occuparsene in fondo sono pochi è qualche cosa di assurdo acquista valore solo per gli uomini vittime di violenza solo per gli uomini uccisi un'altra notazione sulla Schittsfarn subita anche questa è una costante perché trattare argomenti politicamente non corretti o femministicamente scorretti è qualche cosa che attira attira le ire attira ritorsioni attira offese minacce in alcuni casi cito un'esperienza abbiamo fatto ormai diversi anni fa abbiamo condotto con un gruppo di ricerca del quale faceva parte anche Santiago che ha citato è uno degli autori della Frionda vi ho fatto un'analisi sulle vittime di violenza maschili prendendo lo stesso identico questionario che l'Istat aveva sottoposto a violenza femminile parlo solo del prequel diciamo dello start up della frase organizzativa di questo questionario per somministrarlo non volevamo fare solo il nostro piccolo gruppo di ricerca volevamo una patente universitaria abbiamo cercato dei docenti universitari che mettessero la firma il nome il cognome la faccia e partecipassero a questo a questo genere di lavoro le risposte che abbiamo ricevuto sono state corali bravi è un'ottima iniziativa andate a colmare un vuoto non c'è nulla di istituzionale in merito va fatta questo tipo di analisi se volete vi aiuto come ghostwriter perché il nome il cognome la faccia non posso mettere sappiate che vi andate a infilare in un ginepraio sappiate che ci saranno delle ritorzioni io non posso perché ho una carta di difendere perché ho dei progetti in piedi che potrebbero non venire rinnovati perché ci sarà un prezzo da pagare questa è stata una percezione collettiva non sto parlando di una persona se pare da siete possiamo anche fare i nomi delle persone contattate che poi hanno gentilmente ripiutate l'ultima annotazione su quello sulle preziosi osservazioni dell'avvocato di poco fa è quella dello spostamento dell'asse giudiziario dall'oggettività alla soggettività l'introduzione del reato di percezione quindi dallo stalking in avanti non solo anche per la violenza sessuale per tante altre cose assistiamo l'avevamo detto prima ha una mole immensa di archiviazioni di proscioglimenti e di assoluzioni perché perché è importante denunciare qualcuno perché mi sento perseguitato mi sento violato mi sento in pericolo mi sento minacciato sento minacciata la mia incolumità personale e quella dei miei cari che sono le cose che corrispondono al 612 bis all'articolo sullo stalking su atti persecutori poi se i fatti narrati non hanno gli estremi di reato per cui viene archiviato però l'importante è che la persona che ha questa percezione per il solo fatto di percepirsi come vittima di violenza come vittima di persecuzione come potenziale vittima di atti illesivi della propria incolumità da parte del presunto persecutore già questo garantisce lo status di vittima e i benefit che da questo derivano quindi questo spostamento dell'asse dell'oggettività di un reato alla soggettività è un altro elemento pericoloso che alimenta il fenomeno già di per sé in aumento già di per sé in espansione delle false accuse delle accuse strumentali della carta bollata utilizzata per motivi diversi da quelli che vengono narrati viene utilizzata come moneta da spendere su altri tavoli ed in particolare il settore più fertile è quello delle separazioni dei divorzi dei pigli contesi e delle sottrazioni internazionali Avvocato se non ha qualcosa da aggiungere rispetto alle osservazioni di Fabio mi sembra che le osservazioni di Fabio vengano colto il punto il diritto che va verso la soggettività invece che rimanere su un ambito oggettivo e quindi consentire la parità delle armi tra accuse e difesa mi sembra che sia il punto fondamentale verso il quale stiamo andando purtroppo stiamo andando a questo punto ma solo come solo come corollario volevo cercare di capire di dare così una chiave di lettura che è un'ipotesi ovviamente di quello che è successo all'Avvocato allora ricapitolando è stato cercato prima da Jessica Notaro e a distanza quasi di un anno forse anche più di un anno è uscito fuori questo servizio delle Iene con appunto Jessica Notaro dove è stata attesa questa questa imboscata all'Avvocato io ho notato una curiosa coincidenza che questo servizio delle Iene è uscito poco dopo poco prima non ricordo di uno spot uno spot con il protagonista proprio Jessica Notaro ora vi faccio vedere solo l'inizio credo che non riusciate a sentire purtroppo l'audio ma ve lo dico io lo spot è questo dove dice che una donna viene uccisa ogni tre giorni che le vittime di violenza una donna è stata vittima di violenza in tutto il mondo e che 20.000 donne si sono rivolte ai centri antiviolenza nel 2020 e poi ovviamente stop alla violenza contro le donne ecco questo spot è uscito qualche giorno prima o qualche giorno dopo non lo so perché non seguo la televisione il programma delle Iene con protagonista Jessica Notaro è una curiosa coincidenza tra l'altro quello spot pubblicizza se ho capito bene una catena di negozi con prodotti di bellezza o prodotti qualcosa del genere insomma per donne si chiama acqua e sapone una cosa del genere che si è preso l'impegno di raccogliere ben 500.000 euro questa catena di negozi 500.000 euro per l'associazione antiviolenza doppia difesa che qualcuno ricorderà è quella fondata e guidata e intestata in qualche modo a Michelle Unziker che va bene è una subrette molto bella molto brava molto simpatica ma soprattutto all'onorevole Giulia Buongiorno e qui rientra un po' ripeto probabilmente è una casualità la mia è un'ipotesi che sia una cosa costruita d'arte far uscire queste cose quasi in simultanea recuperando la dichiarazione dell'avvocato di un anno fa sembra fatto un po' apposta diciamo però ripeto può essere solo una mia sensazione però rientra tutto nello schema che abbiamo detto addirittura c'è un elemento peggiorativo cioè la violenza contro le donne il femminicidio e tutta questa retorica utilizzata come strumento di marketing nello spot Jessica Notaro dice subito gli slogan chiave per attivare l'attenzione su quei temi per poi proporre la catena di negozi che vuole dare 500.000 euro a doppia difesa e quindi c'è un utilizzo strumentale anche abbastanza bieco abbastanza spregevole come uno strumento di marketing dietro ci sono davvero dei morti delle donne maltrattate e viene utilizzato in questo modo grazie al cielo si tratta di numeri contenuti la stessa Unione Europea ci mette al terzultimo posto in Europa come tasso di omicidi di donne e tasso di violenza contro le donne questo ovviamente non lo dice nessuno sono dati dall'Unione Europea però gonfiando i dati nel modo che abbiamo raccontato in questa serata si può utilizzare il tema anche come strumento pubblicitario che è una cosa veramente lo ripeto abbastanza spregevole ribadisco ribadisco magari è un caso che le due cose siano uscite contemporaneamente a me qualche sospetto ma sono io che sono malfidato sicuramente qualche sospetto viene ecco ecco io non avevo visto il video diciamo così la pubblicità meglio di Jessica Notaro e quindi non avevo collegato o supposto un collegamento tra le due cose non vorrei ripetere la solita frase attribuita a Giulio Andreotti che conosciamo bene tutti ma forse in questo caso sì si tratta comunque ecco se le cose stessero così se le cose stessero così si tratterebbe comunque veramente di una strumentalizzazione vergognosa di un problema che c'è che viene naturalmente ingigantito ma che è un problema che c'è e quindi la strumentalizzazione del dolore delle persone le famiglie che perdono che perdono un familiare per un gesto di violenza è veramente veramente è veramente brutto e ci dimostra al livello cioè dimostra al livello di squallora al quale questa società ormai è arrivata ecco questo veramente proprio poco prima della diretta ho avuto modo di vedere un altro dei manifesti che stanno girando molto sulla rete creando molta indignazione dove vengono utilizzate delle persone diversamente abili per per lanciare messaggi allora uno dice per fortuna non sono nato omofobo e c'è questo ragazzo nella carrozzina che è un messaggio orripilante perché implicitamente dà della persona minorata al disabile in più strumentalizza il disabile per lanciare un messaggio alla DDL Zanna quindi ha ragione lei siamo in una fase di degrado comunicativo assoluto assoluto posto che da liberale mi viene da dire se uno vuole cercare di fare business ci sta che faccia anche un po' qualche marachella diciamo così che provi a eccedere un po' il problema come abbiamo detto in questa trasmissione lei l'ha detto molto bene il problema di questo ingigantimento della situazione delle cose sfocia sul piano giuridico sul piano della società lei ha detto una cosa molto importante durante uno dei suoi interventi c'è una zizzania che viene messa tra i due generi vengono messi in competizione e in contrasto due realtà uomini e donne fatti per cooperare e per ottenere il meglio per la collettività e per le persone che cooperano il più delle volte amandosi ma anche solo rispettandosi anche solo volendosi bene e quant'altro c'è questa tendenza al conflitto di genere che è qualcosa che noi stiamo cercando di combattere a questo proposito vorrei chiederle l'ultima cosa prima di chiudere avvocato io personalmente da quasi sei anni Fabio Nestola forse da venti altri anche di più stiamo cercando di combattere questo andazzo facendo noi la chiamiamo informazione altri la chiamerebbero contro informazione di più non riusciamo a fare facciamo convegni facciamo queste interviste facciamo queste trasmissioni articoli tantissimi cos'altro si può fare secondo lei per cercare di correggere un po' il tiro fare pressione sulle forze politiche è perfettamente inutile perché purtroppo i media sappiamo bene come si muovono secondo me ecco questa l'opera che voi avete cominciato da anni ha un grosso valore ha un grosso valore e grazie agli attuali studenti cioè alla rete è possibile arrivare a tante persone che fino a pochi anni fa erano irraggiungibili e che quindi avrebbero sentito solo ed esclusivamente la voce diciamo così orientata verso certi temi la voce orientata ideologicamente quindi questo è già un passo in avanti secondo me molto molto importante che potrà poi portare eventualmente frutti se ci saranno diciamo così forze politiche o anche esponenti politici isolati come sottoscritto che diano spazio e che non si lasciano intimidire ecco quello che io ho cercato di fare e cerco di fare è di non lasciarmi intimidire dalle richieste di scuse che mi vengono rivolte e dal proprio dall'aggressività con la quale si si cerca di mettere a tacere certi ecco questo bisogna trovare il coraggio secondo me di di comunicare di spiegare assolutamente il supporto nostro e di tutti i nostri follower credo da questo punto di vista ora io sto guardando la chat se qualcuno volesse rivolgere qualche domanda soprattutto all'avvocato nel frattempo chiedo a Fabio se vuole iniziare a imbastire la conclusione tanto guardo se arriva qualche domanda guarda come chiusura io farei una ha voluto chiudere con questo video voglio dire una cosa su questo video non si sentiva l'audio ma la prima frase che recita Jessica Notaro è una donna su tre nel mondo è vittima di violenza allora la malafede la mistificazione c'è anche in questo attenzione voglio spezzare una lancia in favore di Jessica Notaro lei sta recitando una parte sta recitando un copione che altri le hanno scritto quindi il creativo della di quella clip ha deciso di puntare su una donna su tre nel mondo subisce violenza qualunque tipo di violenza fisica psicologico sessuale sta dicendo chi ascolta stai attento potrebbe capitare anche a te però una una donna su tre nel mondo sono i dati del comitato ONU quindi raccolti su centottantaquattro paesi nel mondo di quella classifica lo ha già accennato Davide noi siamo tra i paesi più sicuri nella comunità europea e quindi nel mondo sicuramente più di l'Africa del Centro America Sud America o del Sud Est Asiatica siamo tra i paesi più sicuri per la condizione femminile ma il lanciare il grido allarmante perché le donne sicuramente in nello Yemen in Iran in Afghanistan hanno una posizione estremamente sbattaggiata rispetto alle donne italiane ci sono posti dove ancora portano il Burka dove non posso dove c'è la poligamia dove un uomo può avere 4 o 5 donne dove la donna può essere ripudiata e non si possa attraverso il tribunale dove la vita della donna veramente vale meno di una lattina di Coca-Cola bene siccome le donne afghane subiscono violenza il problema si risolvono dando mezzo milione di euro alla buongiorno ecco perdonatemi il nesso mi sfugge questa è la mistificazione di andare a lanciare un allarme su scala mondiale e poi offrire come soluzione acquistare quei prodotti perché poi alla fine non Giulia buongiorno come persona ma la struttura che lei guida che ha costituito godrà di questo beneficio e così finalmente tutte le brutture elencate prima potranno avere una forma di contrasto questa è la malafede nella costruzione di un messaggio comunicativo e mi interessa poco quando passi da d'acqua e sapone ma più o meno lo stesso messaggio comunicativo passa anche nei TG passa anche nei programmi di approfondimento passa anche sui maggiori network nazionali di carta stampata e televisivi a proposito se Davide volevi fare proprio sul femminicidio perché è molto specifico se volevi fare una precisione su una circolare con le indicazioni ai giornalisti di cosa si può e cosa non si può scrivere di come deve essere trattato un articolo che parla di femminicidio lo dico volentieri perché probabilmente l'avvocato non lo sa i nostri follower ormai lo sanno a memoria all'incirca un anno fa caro avvocato ci capita per le mani anzi vediamo sui giornali che esce questa notizia dove alcuni giornalisti della redazione della stampa si lamentano perché devono gli viene chiesto di scrivere di femminicidio in un certo modo noi ci interessiamo un po' e tramite un insider della stampa riceviamo un documento una vera e propria tabella tipo buoni e cattivi con il verde a sinistra le cose che si devono dire quando si parla di femminicidio e a sinistra rosso le cose che non si devono dire e tra le cose che non si dovevano dire c'erano tutti gli elementi contestualizzanti di un delitto quindi se per caso c'era una separazione in atto se per caso c'era una malattia mentale tutti gli elementi che in qualche modo potessero umanizzare l'autore del delitto che sebbene sia un criminale rimane comunque un essere umano venivano vietati permessi invece erano tutte tutte le espressioni che calcavano fortemente l'espressività e la drammaticità dell'evento delittuoso quindi c'era una ripetizione poi gliela mando questa tabella perché interessante c'era una ripetizione ossessiva non dire questa cosa di è stata uccisa è stata uccisa è stata uccisa è stata uccisa proprio in modo ossessivo l'assassino il killer il carnepice termini truculenti da tarantino esatto e ovviamente ci siamo chiesti da dove venisse questa velina che poi scoprimmo era stata diffusa a tutte le testate del gruppo Gedi che è il più grande in Italia è quello che ha più giornali più settimanali trasmissioni radio e quant'altro e a me venne così l'istinto era un pdf io dalla stampa mi mandarono un pdf e di andare a vedere l'autore a volte rimane rimane scritto chi è l'autore del file e l'autore del file risultò essere Michela Murgia quindi abbiamo una scrittrice chiamiamola così un opinionista eccetera che detta le regole hai al maggiore gruppo editoriale italiano su come si deve parlare di femminicidio questo è il nostro paese la sapeva questa cosa no non la sapevo il fatto che i giornalisti si adeguino al diktat di un cittadino qualunque perché Michela Murgia è un cittadino come tutti gli altri e non ha alcun titolo per dare per stabilire ciò che si può dire ciò che non si può dire dimostra lo stato pietoso nel quale è persa la nostra comunicazione devo dire che Michela Murgia è stata invitata anche più recente a un festival culturale proprio qui a Formigine quindi sì insomma il personaggio mi è noto insomma le sue posizioni abbastanza estreme altrettanto ecco la tristezza è vedere che i giornali si piegano a questi diktat che non riguardano purtroppo soltanto il femminicidio ma anche più in generale altre questioni all'ordine del giorno il problema della comunicazione è uno dei più gravi la perdita di fiducia dei cittadini nei confronti dei mezzi di informazione che non fanno più informazione ma solo propaganda è sotto gli occhi di tutti non ci sono domande dal pubblico c'è solo tanta vicinanza avvocato tanta solidarietà tante esortazioni a tenere duro sulla linea che ha preso come le dicevo siamo con lei e i nostri follower anche quindi sono molto contento di questo mi hanno chiesto di postare la famosa tabella della Murgia ho postato l'articolo in modo che tutti possano vederlo direi che siamo in conclusione io vorrei concludere se Fabio e l'avvocato non hanno altro vorrei concludere io vorrei ringraziare naturalmente tutti coloro che ci hanno seguito e che ci sostengono ecco sostanzialmente bene grazie io vorrei concludere però con un messaggio alle Iene con cui ho un conto in sospeso settembre 2019 se ci stanno seguendo sanno di cosa sto parlando la prossima volta se ve la sentite venite a cercare me o Fabio Nestola venite a cercare noi su questi argomenti con la notare o senza la notare non importa vi aspettiamo ci salutiamo? ci salutiamo se non ci sono domande ci salutiamo qualcuno mi dice avvocato si faccia vedere qui leggo avvocato si faccia vedere più spesso non mancherò non mancherò infatti un saluto è stata una bellissima serata ringrazio un saluto e un complimento all'avvocato per aver tenuto la scheda dritta assolutamente la richiesta di non capita spesso ho visto diverse dichiarazioni e poi immediatamente ritrattate con marcia indietro non chiedere scusa e mantenere il punto sulla fondatezza sull'assoluta solidità delle fondamenta sulle quali sono costruite le affermazioni che fondamentale giuridiche sulle quali sono costruite le affermazioni che ha fatto e rivendicare il diritto di poter dire quello che ha detto ripeto le fa onore perché in diverse altre occasioni ho visto delle dichiarazioni belligeranti ma una marcia indietro molto 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 veloce dipende dal motivo per il quale si fa politica se si fa politica per ottenere il consenso allora si può anche fare marcia indietro se si fa politica invece per dare testimonianza alla verità non si fa marcia indietro c'è anche una questione di carattere avvocato io sono l'ho testimoniato in un altro video non mi ricordo quando credo che ormai siamo arrivati a sei o sette occasioni di persone con un ruolo istituzionale anche importante sto parlando di assessori di presidenti di commissione per le pari opportunità eccetera eccetera che volevano impegnarsi a come dire diffondere una narrazione alternativa chiedendoci consiglio chiedendoci tematiche da affrontare hanno iniziato questo percorso e alla prima aggressione si sono tirate indietro io racconto sempre perché poi fanno riferimento o a me o a Fabio queste telefonate assolutamente terrorizzate ma non terrorizzate tanto dal perdere la carriera c'è anche quello ovviamente ma terrorizzate dalla valanga dalla shitstorm come l'abbiamo chiamata prima dalla valanga di insulti minacce pressioni da ogni parte e quindi io ho sentito queste voci realmente terrorizzate è una sorta di terrorismo di nuova generazione terrorismo 2.0 a cui lei ha resistito io ho resistito in un'altra circostanza durante la campagna elettorale sono stati vittime di una shitstorm diciamo così se si supera il primo impatto che effettivamente è notevolissimo nel senso che lascia un profondo disagio un profondo disagio essere vittima di tanti insulti di tante offese di attacchi gratuiti assolutamente demenziali se si riesce a superare la prima volta dopo ci si fa il callo poi ovviamente non bisogna non bisogna avere diciamo così essere in una posizione per cui interessi ecco perché altrimenti è ovvio che se si è ricattabili diciamo così tra virgolette non si va da nessuna parte insomma si è destinati a cedere assolutamente in bocca al lupo avvocato Fabio ci sentiamo è stata una bellissima serata buona serata a tutti e per le Iene vi aspettiamo un saluto arrivederci 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 Grazie a tutti.